Nuova superpuntata di Gentleman Driver TV in onda da venerdì 28 luglio, come sempre, alle ore 22.55. Il Salone Auto e Moto d'Epoca si sposta a Bologna e sarà un'edizione che si preannuncia eccezionale. Millemiglia 2023, il racconto. Tour de Tunisie, turismo in autostorica o moderne sportscar per una formula di successo. Cristiano Luzzago, in questa puntata, alle prese con un'auto speciale, una sorpresa. Rievocazione storica della Stella Alpina, un evento al quale non si può mancare, tra storia, natura e passione per le autostoriche. Ricordate, Gentleman Driver TV è visibile in tutta Italia sui canali Sky Sport 229, sul digitale terrestre canale 402, TVSAT 55 e tutte le piattaforme web di Adrenaline 24H. Grazie per la visione! Grazie.